Il cinema torna a vivere dopo lo stop forzato dalla pandemia e a Brindisi prova a ripartire con l'inaugurazione di tre nuove sale nel Maxi Cinema Andromeda, prima rallentate dal ritrovo di un ordigno bellico nel 2019 e poi dall'arrivo del coronavirus. A fare gli onori di casa il 93enne produttore Fulbio Lucisano, proprietario del multisala. Noi stiamo parlando di cinema, il fascino irresistibile di un film visto al cinema si spiega da quattro generazioni in tutta la sua magia. Basta, noi con queste tre sale nuove speriamo di portare ancora più gente al cinema che vada a vederlo nel grande schermo. Grande entusiasmo del pubblico presente che ha incontrato gli attori protagonisti del film una famiglia mostruosa che non hanno nascosto la loro emozione nel ritrovare il proprio pubblico. È un'emozione meravigliosa, veramente una sala strapiena, cose che non si vedevano da due anni, è veramente una grande emozione come deve essere il cinema. Questo è stato un periodo invece contemporaneamente era anche di grande produzione, perché in qualche maniera c'è stato un aiuto, il cinema e la televisione non si sono fermate rispetto al teatro, allo spettacolo dal vivo e questo ci ha dato forza in qualche maniera, forza nel credere che il futuro possa essere migliore. C'è grande entusiasmo per voi giovani attori ma anche per tanti giovani spettatori, l'abbiamo visto anche stasera. Sì, sì, io non mi sento nemmeno più giovane, però poi mi odiano quando invece dico 32 anni, medio giovane, però sì, infatti sono felice di vederli, li vedo da qua e speriamo piaccia, piacerà, piacerà.